Tutti a Como si lamentano che non succede mai niente, noi vogliamo dare invece una risposta. Era da tempo che volevo fare un evento del genere con i giovani e avendo incontrato l'altro ho pensato che fossero le persone giuste con cui farlo. Una location come questa già di per sé lascia il segno, anche perché è costruita in modo che chi entra dentro, come se fosse assorbito all'interno di una bolla artistica, l'arte entra un po' da tutti i pori. Mischiare la musica, il teatro, il cinema, l'arte visiva. Questo evento mi sembra che le racchiuda un po' tutte. Questo è un evento bellissimo in un contesto del genere, ma credo che sia anche un evento bellissimo per chi viene qua a suonare. Ho visto i ragazzi di Berlino che sono arrivati e hanno fatto almeno una ventina di foto prima di iniziare a fare le prove audio. L'evento principale deve essere quello di offrire qualcosa di diverso e che lascia il segno. Questo evento in particolar modo fa sì che si possano avvicinare i giovani al teatro. Abbiamo tentato di sensibilizzare il pubblico comasco su una nuova tipologia di musica, quindi un'elettronica concettita molto più sullo stile analogico, quindi sul live. Aprire il teatro è sempre molto positivo. È una cosa interessante perché il contrasto tra location e tipo di scelta musicale, anche artistica, perché anche il balletto che c'era prima o tutte le esibizioni che c'erano prima rende in sé la serata interessante. Quindi questa commissione tra arte, musica, performance e ovviamente all'interno di un contesto culturale e storico che è sicuramente il plus valore di questa manifestazione. Porta non solamente alle istituzioni ma a tutta la città in generale, alla cittadinanza, nuove prospettive di divertimento. Sono degli eventi veramente fantastici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti senti fuori contesto, però allo stesso tempo ti senti veramente nel centro del mondo della musica e quindi è veramente emozionante. Sono ben contenta che il teatro sia aperto a questo genere di iniziative. Crediamo molto nell'innovazione, nel rapporto con i giovani, quindi benvengano. Pronti a comprare questo è proprio importante. Penso che questo sia solo l'innovazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.